Ciao ragazzi e ragazze, oggi facciamo la torta al caffè con dei pezzi di cioccolato e nocciola, così. Perché c'è la Gaietta che ci piace il caffè e il cioccolato? Abbiamo detto, possiamo fare la torta al caffè con i pezzi di cioccolato dentro. Gaietta, questo è per te, anche se hai il cameraman 1, il caffè non lo beve mai. Però ho detto che vuol provare, sentire com'è nella torta. 3 uova, 200 g di zucchero, 100 ml di caffè, 100 g di burro senza lattosio, 230 g di farina 00 setacciata, una bustina di lievito, una bustina di vanillina, un pezzo di cioccolato con le nocciole e per abbellire del cacao amaro e dello zucchero a velo. Allora, rompiamo le uova, mettiamo lo zucchero e mescoliamo fino ad diventarlo bello chiaro e spumoso. Aggiungiamo il burro sciolto in un pentolino, il caffè, aggiungiamo un po' alla volta la farina, la vanillina, la vanillina, il lievito, prendiamo una teglia imburrata, infarinata, rovesciamo dentro il nostro mapazzone al caffè. Guarda che bel colore di caffè, ma sai che profumo di caffè che c'è ragazzi qua? Sai? Sai cosa che non mica lo sentite voi? Tagliamo il nostro pezzo di cioccolato a pezzettini, con la nocciola che si sente e li mettiamo sopra. Facciamo di andare un po' dentro. Così. E la mettiamo nel forno a 180 gradi per un 45-50 minuti, eh? Dipende dal forno. Adesso la lasciamo raffreddare e intanto prepariamo con il cacao e zucchero a velo, facciamo un composto. Mettiamo due cucchiaini di cacao e un cucchiaino di zucchero a velo e glielo mettiamo sopra. Ragazzi, c'è un profumo di caffè, cacao, nocciole, cioccolato, di tutto e di più. Mi sembra di essere... Dov'è che c'è il caffè? Arabica 100%. Dove c'è il caffè Kimbo? Caffè Kimbo. L'ho inventato io, caffè Kimbo. Ragazzi, è ancora un po' tiepidina, eh? Ma voglio assaggiarla. proviamo a tagliarla, a vedere com'è. La crosta è bella croccante, eh? Vediamo dentro. Con i pezzi di cioccolato. Guarda il cioccolato. bella morbida. Che profumo, raga. Vado, eh? Buonissima. Ci sentono le nozzole. Nel nocciolo col cioccolato. e il caffè sta da dio. Non aggiungete lo zucchero nel caffè, eh? Perché tanto c'è da lo zucchero nell'impasto. Ma il cioccolato con le nocciole non è amaro. È buonissima. Veramente buonissima. A chi piace il caffè, eh? A me il caffè, pensa che io il caffè non lo bevo neanche. Lo bevo solo. Ogni tanto, solo al bar ha schiumato. Perché a casa non riesco a berlo. Nel caffè latte sì, ma il caffè da solo no. Con i pezzi di cioccolato dentro è buonissima. Sopra bella croccante e anche lo zucchero avevolo con il cacao mischiato. Buonissima. È buonissima. E c'è dentro il pezzi di cioccolato. Fatela che è veramente una cannonata. Veloce, facile. E come sempre, chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto e io la metto nella story su Instagram. Un abbraccione, un bacione e viva l'amore. Con le mani sporche di cioccolato. Guarda. Ciao. Ciao.